voltiamo pagina e parliamo di libri in particolare di una recentissima pubblicazione dal titolo veramente molto ironico ed anche accattivante sto parlando delle favole sgarrupate edizioni il papavero ne parliamo questa mattina proprio con l'autore di questo testo quindi do il buongiorno alla grande artista cirovillano buongiorno grazie grazie veramente grazie grazie di essere qui con grazie a te grazie a tutti quanti grazie a dio che siamo vivi ancora siamo come stai ciro alla grandissima alla grandissima reddice della fatica di ecche domenica che mi ci porta via tanta fatica ma ci da tante soddisfazioni sempre sul canale 8 facciamo anche il tour per presentare questo libro bene appunto il mese scorso è presentato in occasione del campagna libri festival questo tuo lavoro che emozione è stata per te dico la verità sono nato lì che non non la conoscevo proprio che non essendo un autore di quelli lì non frequentavo gli ambienti intellettuali io frequento ambienti un po più capitezza media secondo geometra e che mi fanno che mi fanno stare anche bene meglio di solito e quando sono entrato a palazzo reale ho visto tutti questi libri tutti questi stand tutte queste persone con gli occhiali ma sono in mezzo a loro anche io e io tante feci vedo bene però mi sono giudato a cattare gli occhiali perché per darti un tono e sì io qua sono astigmatico e profetico da quest'altra parte e però sono stato in questo mondo bellissimo dove tutti presentavano cose gente la rai che presentava la cosa media e noi poi ci hanno messo in ma stare in mezzo a questo mondo della cultura così bello e lo fai sempre come al solito con la tua ironia che ti contraddistingue sempre ma in queste pagine diciamo lo tu racconti anche in modo divertente chiaramente e con un linguaggio molto semplice degli scognizi napoletani tematiche che diciamolo sono anche legati a problemi di strettissima attualità come è nata quindi questa idea io lavoro con i ragazzini con i bambini perché i bambini non si vanno a fare chiamare bambini se vanno a fare sono ragazzi anche se tengono sei mesi di vita però lavoro con loro da tanti anni facciamo scrittura laboratorio di scrittura creativa e quindi con loro ci divertiamo a creare favole scrivere testi nuovi e quando ho letto le favolette che avevo uno scritto io venivo già da molte esperienze con io speriamo che me la cavo perché ho fatto l'adattamento teatrale dell'opera di marcello d'orta ma non solo ne ho fatte due o tre di ho già creato gratis e bla 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 e mi sono reso conto che avevo un potenziale fortissimo socio pedagogico sai come parlo di chissica perché attraverso le fasi frasi sgrammaticate come era io spero non me la cavo questi bambini hanno scritto le cose meravigliose ma reali concrete crude che sono divertentissime poi quindi racconti con gli occhi del bambino quindi una prospettiva chiaramente anche ingenua anche consapevole sotto un punto di vista insomma anche pratico effettivamente delle cose quella che è la realtà che ruolo hanno nella tua vita i bambini vabbè i bambini sono centrali sì cioè io adoro vabbè ho due figli che oramai non sono più bambini ma resteranno bambini per sempre perché sono grandi però io ho lavorato sempre accanto ai bambini ho cercato di fare della formazione il mio punto di forza però i bambini sono quella parte di umanità che mi fa stare bene che mi fa sperare con gli adulti non mi trovo buono meglio i bambini ma assolutamente gli adulti mi annoiano in una maniera esagerata sono prevedibili sono noiosi dicono sempre le stesse cose fanno guadagnare le sorde e creatore no e creatore sono ecceso come non voglio fare i paragoni però bambini animali cagnoline e coiba sono la cosa più bella al mondo perché con le loro differenze no però ovviamente in animali riconoscete che te ne pila però quasi tutti e i bambini sono meravigliosi perché ti stupiscono ti sorprendono non hanno la cazzina poi quando incominciano a crescere e c'è il momento dell'imitazione dell'emulazione che diventano finti adulti la incomincio a ma i bambini i bambini veri e quelli e anche gli adulti che amano la loro parte infantile sono i miei migliori amici come te Ciro diciamolo e un po' tutti quelli che poi si avvicinano al mondo del teatro hanno questa dinamica anche un po' fanciullesca sì sì molti però molti altri no la perdono la perdono per perso a tante cose tanti alla maturità tante mazzate subite eccetera perché questo il nostro è un ambiente dove ci sono alti bassi ma anche bassissimi questa cosa influenza poi la psiche dell'artista e tutto quanto che però si sporca con la realtà e quando la realtà ti sporca è finita il bambino no il bambino riesce a rimanere innocente i bambini matti sono quelli che riescono di rimanere distanti mille miglia dalla realtà perciò sono affascinati perché ti guardano con quegli occhi dicono ma ero stupato con gli occhi di quelli che ti ammettono di non sapere le cose sai quante persone adulte ammettono di non sapere pochissime ah già sapevo questa cosa tutti dicono ah sì sì oppure ne ho sentito parlare non ti vogliono dare la soddisfazione il bambino invece ti guarda e dice è bello non lo so me la insegni me la spieghi gli adulti no gli adulti sono noiosi perché sanno tutto di tutto Ciro mi permetto di dire anche che dobbiamo un po difendere perché spesso questi bambini poi diventano troppo velocemente grandi stamattina abbiamo aperto la nostra puntata con delle notizie non molto piacevoli che parlano di episodi di violenza qui a napoli tra l'altro stiamo parlando di ragazzini 17 certo il povero ragazzo che è morto 19 ma comunque ancora molto giovani che cosa possiamo fare come l'arte e anche dei libri come il tuo possono aiutare in qualche modo lo possiamo fare possiamo fare tantissimo nei primi anni di vita proprio tantissimo è questa la formazione e possiamo fare tantissimo con l'esempio questa è la verità che io se metto la cintura di sicurezza mio figlio distinto metterà la cintura di sicurezza se io leggo mio figlio leggerà ma se io non metto il casco mio figlio non se lo mette il casco e poi sono c'è bisogna di staccarli da questa che questa verità proprio dai primi dai primi anni bisogna portarli fuori fargli vedere altre cose ma non necessariamente viaggiare perché spesso non ci sono le condizioni economiche per farlo però la bellezza fargli vedere le cose belle l'arte e anche a due passi nella nostra città guarda mi ha risposto quella stessa parola con cui mi ha risposto questa mattina Daniela è la mamma di Gio Gio mi ha detto la soluzione è la bellezza è la bellezza si è così e la bellezza la cosa ce l'hanno negli occhi i bambini gli adulti l'hanno persa questa bellezza la dobbiamo ritrovare assolutamente assolutamente voglio parlare anche del monitor anche io la devo ritrovare la bellezza con tutto che sono sempre fico però questa mattina il capello diciamo non giova eh sì vabbè perché lunedì mattina insomma beh tu dovevi dire Ciro non è vero sei bellissimo invece sbagliato stai appoggiando questa mia non contentità voglio parlare però della prefazione nel tuo libro perché la prefazione è stata curata da un tuo sostenitore e anche un sostenitore chiaramente di una causa molto importante sto parlando di Don Luigi Merola della Fondazione A Voce Le Creature che ha sposato subito questa meravigliosa follia perché parliamo sempre di bambini e di speranza e quindi dove c'è ragazzini dove c'è speranza dove c'è voglia di fare e Don Luigi è sempre presente sempre sempre combattivo fu molto più combattivo di me lui è di una io sono di una picrizia pazzesca lui invece è sempre attivo non riesco a presentare il libro con lui da nessuna parte che non sta a Roma può stare a Milano troppo impegnato mamma mia è una cosa è impegnato sempre per il ragazzino ma siete molto legati siamo legati in DAD in Smart Work in Smart Work si dice non lo so forse si dice così però siamo legati a distanza ma spero di fare un grande evento in questi giorni con Don Luigi per presentarlo perché lo voglio tenere qua anche se lui rischia sempre capito? colpi di pistola quindi certe volte si sta a distanza a me mi fa proprio comodo perché sta avvicinando lui non ha paura io mi metto proprio paura quindi allora io ti chiedo perché leggere le tue favole sgarrupate? perché innanzitutto sono brevi quindi lo dico allo spettatore che spesso apre il libro e dice mamma mia ma già leggo su questo Susamello infinito sono brevi una paginetta una paginetta e mezza certe volte mezza pagina si fa la lettura quotidiana si fa un sorriso una risatella e riposa il libro sono brevi sono poche però sono molto molto divertenti e ci insegnano la morale della vita attraverso il divertimento che è sempre un fatto molto carino assolutamente sempre positivo Ciro parliamo anche di questa domenica e che domenica proprio qui a Canale 8 ogni domenica dalle 14 giusto? dalle 14 alle 18 quindi mamma mia si 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 una lunga domenica insieme bellissima che cosa ci puoi anticipare? guarda vi posso anticipare che la cosa più bella che mi stanno dicendo per strada e anche molti colleghi è che un programma garbato per tutta la famiglia senza parolacce senza urlare che è una cosa meravigliosa un programma vario perché noi approfondiamo alcuni temi di attualità però giochiamo parliamo con la gente a casa poi ci sono i matti che sono in studio ma matti veri gente che non sta buona cacava che le famiglie non le vogliono e quindi la domenica ci mandano da noi a stare con noi hai fatto proprio una selezione insomma sì sì voglio dire come si deve dire che gli uccelli si appaiono in cielo come si dice e i pazzi si mettono insieme in terra no ci sono molti amici che mi vengono a trovare ogni domenica e poi ecco compagni di viaggio come Emanuele Titocchia Emanuele Titocchia Partizio Rispo ma ce ne sono tantissimi ogni domenica ci viene a trovare Borrelli che è sempre pure come Don Luigi Medina di salute sono combattivi sono belli sul pezzo sempre c'è Lorenzo Crea ci sarà Marco Zulzolo ci sono tantissimi amici che ogni domenica ci prestano nel loro tempo anticipazione proprio della prossima domenica? prossima domenica no è troppo ammesso proprio perché non possiamo dopo la domenica sono quattro ore di battaglie noi raccogliamo morti e feriti e poi lunedì andiamo in infermeria vediamo chi è rimasto vivo e poi i prossimi giorni valutiamo i prossimi giorni valutiamo allora Ciro intanto complimenti ancora per le tue favole sgaruppate sì e che appunto vediamo in questo momento sovraimpressione e poi voglio anche leggere quelle sono delle degli estratti dai loro pensieri perché loro dicono tipo ho detto racconta un po' le favole classiche però dal tuo punto di vista loro hanno raccontato la cicala e la formica che la formica lavorava sempre la cicala non faceva niente la morale dice io non voglio fare la vita come la cicala se no mi scoccio però non voglio fare la manca vita e merderà la formica perché giustamente e poi Ciro voglio ricordare che siamo in chisura e che è domenica proprio qui a Canale 8 ogni domenica dalle 14 alle 18 sicuramente ti viene a trovare? certo sicuro? sì va bene chiudo con questa frase meravigliosa mi piacciono le favole perché è obbligatorio il lieto fine Ciro Villano piccolo brecca ciao 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 ciao